Ciao, mi chiamo Gregorio Stagliano e sono uno studente del Master in Intelligence e Security. Anche io ho tenuto a seguire le mie lezioni da casa per ottemperare le misure predisposte dal governo. Devo dire che la Link University si è organizzata in tempi brevissimi per far sì che i suoi studenti non perdano nemmeno una lezione, fornendoci tutto il materiale necessario e dandoci la possibilità di seguire le lezioni comodamente da casa. Chiaramente non è la stessa cosa che fare lezioni di persona, ma in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, è importante per noi studenti che l'università si dimostri in grado di gestirla come sta facendo, nell'attesa che tutto ritorni alla normalità.